Sono quattro le vittime dell'incidente che ha coinvolto una barca turistica affondata ieri sera nel Lago Maggiore, nelle acque tra Lisanza in provincia di Varese e Dormelletto sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, a causa di un violento temporale mentre era in corso una festa a bordo. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori, dai vigili del fuoco, impegnati durante la notte e al mattino nelle ricerche dei dispersi, unitamente all'equipaggio di un elicottero. Delle 24 persone a bordo, di cui due membri dell'equipaggio, una ventina sono riusciti a mettersi in salvo. Secondo quanto si è appreso, 14 dei naufrighi sarebbero riusciti a raggiungere la località Piccaluga, subito a soccorsi, quattro di loro sono stati portati in ospedale, tre in codice verde e una in codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30, l'imbarcazione sarebbe una houseboat. La barca era stata nolleggiata nel pomeriggio da un gruppo di 22 persone, una comitiva di turisti inglesi, che stavano festeggiando un compleanno. Il gruppo è stato colto di sorpresa dal violento temporale che si è abbattuto sul verbano intorno alle ore 19. Il natante si è prima ribaltato e poi inabissato. L'allarme è stato lanciato da una barca che ha notato i dispersi in acqua. Imponente è la macchina dei soccorsi mobilitatasi per l'incidente nautico. Nove ambulanze e un'automedica giunti a Bordolago, con l'ausilio dei carabinieri di Gallarate, di Arona, della Guardia Costiera del Lago Maggiore, dei vigili del fuoco di Varese e Novara. Sul posto sono accorsi gli specialisti vigili del fuoco e del soccorso acquatico e gli aereosoccorritori del reparto volo Lombardia a volo dell'elicottero Drago 150 e il nucleo sommozzatori, oltre alla Guardia Costiera con moto d'acqua e carabinieri. Sono stati allertati inoltre tutti i gruppi di soccorso della zona.